Partirà dal Teatro delle Arti la 36esima edizione del premio Charlot. Cambiano i luoghi, cambia la stagione, ma non cambia la qualità. Può essere sintetizzato così il cartellone dell'evento che, fino a domenica 27 ottobre, porterà a Salerno grandi nomi dello spettacolo come Alessandro Siani, Ambran Giolini, Gianluca Di Marzio, Robby Facchinetti, Federico Moccia e tanti altri. È tutta una novità perché è fatta in periodo autunnale, non è fatta all'arena. All'arena, questo ci dispiace perché le richieste sono tantissime perché all'arena c'erano 3.000 posti, nei teatri ovviamente possiamo accontentarci 500, 600, non di più. Quindi molte persone sono rimaste purtroppo senza l'invito perché si entra solo per invito. E questo ci dispiace perché tutti i nostri, per le persone che ci seguono da tanti anni, molti di questi non hanno potuto accedere alle sale. Le serate saranno il 24 e il 25 al Teatro delle Arti, il 26 all'Agosteo e il 27 al Teatro Verti. Noi siamo rimasti fermi nella qualità della proposta, anche se purtroppo i mezzi di sostegno sono stati dimezzati. Però non potevamo sicuramente tradire quelle che sono le aspettative del nostro pubblico, né tantomeno il progetto del premio Charlotte. Al Teatro delle Arti quindi l'apertura con sette giovani cabarettisti provenienti da diverse città italiane che si sfideranno per conquistare il premio Charlotte Giovani. Padrino della competizione sarà il trasformista Arturo Brachetti. Prima dell'inizio della gara, dalle ore 16.30 alle ore 18.30, sempre al Teatro delle Arti si terrà la terza edizione del laboratorio comico Percezioni Comiche. Ad aprire la serata sarà il professional ballet di Pinateste e Fortuna Capasso. Ci sarà anche spazio per i giovani, quindi il premio Charlotte si dimostra ancora attento ai giovani talenti della città di Salerno e provincia. Quello è il cuore pulsante del premio e sono i giovani, con i tanti talenti che abbiamo scoperto e che poi sono diventati grandi realtà nazionali. Quindi è sicuramente un momento particolarmente importante per il premio. Grazie a tutti.